Oh, sono Marrochini, sono stato una voce! Sono Marrochini, sono Marrochini! Sono Polacco! Polacco? Si sono Polacco! Polacco! Ma molto, ma molto stronzo! Si stanno scusi, sei tu! E' una buonità, sei screnziato! E' ci conviene che lo può! E' che ti pensavo? E' dove... dove andava la povera roba? Che resto? Quella è farina! E' farina! E' farina! E' farina! E' farina! E' farina! Oh, guardate! Mi viene le bombe interessanti! Ma quali le bombe? Le bombe interessanti? Tu hai detto vicino a lui, attenzione! E' la frittata! La frittata? E' come che uomo fa la frittata? Tu hai detto... Facci di nuovo la frittata! E' vero! Questa che sono? E' la frittata! 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 Tu hai detto pure... Io devo andare a Capotechino! Ma che è la sua casa? E' la sua casa? La sua casa a Caprichino! E' la sua casa a Caprichino! E' potuto dire... E' una cosa! Minuto più minuto meno... E' la mia vita è fatale e morire! Eh si! Perchè tu non conosci la mia moglie! Mia moglie! Se mi fai con il mio nonno... In orario... E' non ci porto l'ora della farina! Ma c'è... E' un bubino! 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 Ma che non lo so! E' un bubino! Ma tu come andai a un stile fare? Tu fai vino l'uovo! Viene le fazzolette! Viene i tappeti! Viene i polacchi! Oggi faccio polacchi! Rimano marocchina! E poi ti faccio pure le pesche! Ma ti fa cattino appena a farlo! Oggi però hai fatto bene una cosa! Oh strumci! E' un bubino! E' un bubino! E' un bubino! E' un bubino! facciamo la torta, sapete che c'è di noi